Buona e santa serata a tutti. Eccomi qui per salutarvi, per pregare con voi e per invocare soprattutto su tutti voi che ascoltate questo video la santa benedizione del Signore, il materno amore di Maria, la protezione degli angeli custodi e l'intercessione dei santi i nostri amici. Io vi devo dire grazie, siete ogni giorno tantissimi e mi volete bene ma sapete che il bene è ricambiato. Siamo insieme in questo cammino e anche oggi abbiamo fatto un pezzettino di strada insieme. Mi auguro che ciascuno di voi si sia sforzato a piacere al cuore di Gesù e di Maria. A proposito del cuore di Gesù e di Maria voglio esortarvi tutti, voglio invitarvi tutti ad avere molto a cuore la devozione al cuore immacolato di Maria e al cuore sacratissimo di Gesù. Se noi siamo devoti al cuore immacolato di Maria e di Gesù i nostri cuori appiano a piano, poco a poco, assomiglieranno ai loro cuori e allora anche noi ameremo e faremo ogni cosa solo a partire da questo grande esempio, il cuore di Gesù e di Maria. E poi ecco le promesse che fa il sacro cuore di Gesù a chi a lui si rivolge e a lui è devoto. Darò tutte le grazie necessarie al loro stato. Metterò la pace nelle loro famiglie, li custodirò in tutte le loro afflizioni, sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte. E poi ve ne sono altre. Spanderò le più abbondanti benedizioni sopra tutte le loro imprese. I peccatori torneranno nel cuore, i peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano della misericordia. Le anime tiepide diventeranno fervorose, le anime fervorose si innalzeranno a grande perfezione. Benedirò le case dove l'immagine del sacro cuore sarà esposta e venerata e darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più induriti. E allora diciamo insieme dolce cuore del mio Gesù fa che o ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria si la salvezza dell'anima mia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Accogliete la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buone santa notte a tutti. Vi mando un bacio. Vi voglio bene e se Dio vuole ci vediamo domani. Che possiate riposare serenamente e chi va a lavorare buon lavoro anche di notte. Ciao a tutti.